L'estate è ormai alle porte e gli albergatori si apprestano ad ultimare i lavori prima di accogliere turisti provenienti da ogni parte del mondo. Le previsioni per la bella stagione sono incoraggianti, ma tra i proprietari degli hotel persistono alcune preoccupazioni. L'estate è ormai alle porte, insomma, grazie a Dio questa pandemia è passata e quindi le previsioni sono positive. Chiaramente è tutto un bilancio ancora da costruire, però anche in occasione delle prossime manifestazioni di Pesaro 2024 ci stiamo preparando e ci stiamo accingendo a spingere la promozione in questo senso. Quindi siamo assolutamente fiduciosi sulla stagione turistica. L'unica certezza sono dei clienti abituali che abbiamo, ma purtroppo non aiutano a compensare quelli che sono i costi, la stagione, eccetera, eccetera. Sono molto spaventata, devo dire, ma non tanto per il lavoro o altro, ma per le comunicazioni che leggo su internet, giornali. Speriamo molto bene, adesso c'è stata un attimo di paura di tempistiche, di clima, ma quanto pare sembra che ci sia un bel sole. Speriamo che l'estate si continui così, con una bella piacevole calda temperatura e speriamo che arrivino anche molte persone più anche da altri paesi e che la cultura piano piano si porti sempre più in alto, grazie anche all'apertura del 2024 Pesaro Cultura. Gli albergatori di Pesaro e provincia sono pronti per l'estate, immancabile il punto della situazione a poche settimane dall'inizio della bella stagione con il presidente di Apo Hotels, Pesaro, Paolo Costantini. Per il momento la previsione è buona, eravamo partiti bene in aprile con anche un buon movimento di prenotazioni, purtroppo con le ultime settimane le prenotazioni si sono fermate e siamo molto in attesa delle conseguenze che ha portato il maltempo nelle settimane scorse, però sembra che la cosa stia rientrando. Noi a Pesaro fortunatamente siamo stati lambiti rispetto alla Romagna, siamo stati più fortunati e quindi speriamo di tornare presto a rivedere il volume di prenotazioni che si era riscontrato in aprile. Parliamo dell'istino prezzi, ci saranno degli aumenti? Degli aumenti ci sono stati, sono stati contenuti, sicuramente sono stati adattati un po' a quello che è stata anche l'inflazione nell'ultimo periodo, però credo che non è quello l'elemento determinante per una vacanza a Pesaro. È sempre un tema d'attualità, anche quest'anno c'è la carenza del personale? Purtroppo sì, c'è una mancanza di personale, c'è una mancanza di formazione, noi puntiamo a formare il personale che abbiamo in casa e a professionalizzarlo. Ci teniamo che soprattutto chi ha contatto diretto con il turista sia un vero ambasciatore del nostro territorio, quindi puntiamo a migliorare la qualità del personale che abbiamo.